E se la guerra in Europa avanzasse? Se scavalcasse i confini, invadesse villaggi, assediasse le nostre città, saremmo pronti? E che cosa faremmo? Staremmo a guardare caccia in partenza dalle basi aeree o imbracceremo un fucile? Ci arruoleremmo? Ognuno per sé nel proprio Stato? O tutti assieme, come Unione Europea? Sì, sicuramente, stanno coinvolgendo un enemigo che defende questo bambino. Ora la forza blu ha una malattia che dovrà fare. I soldati vestiti di blu stanno affrontando il nemico nei boschi della Svezia. C'è un'emergenza, hanno un ferito. È un gioco di guerra, un addestramento. Ma a Stoccolma, quanto a Tallinn, lo prendono molto sul serio. In caso di attacco, sarà più facile mobilitare cittadini già armati, dice questo addestratore a Estone. Non è più un'ipotesi tanto bizzarra da quando la Russia, due anni fa, ha aggredito l'Ucraina, che ancora, in questo momento, sta combattendo contro l'invasore. Questa è l'Europa, è un podcast della redazione esteri del Corriere della Sera, prodotto da Prospect. Io sono Alessandra Coppola e in questa decima puntata torneremo a parlare della guerra alle porte dell'Unione con Andrea Marinelli, inviato nella Svezia appena entrata nella Nato portando in dote la sua imponente industria militare e con Paolo Salom, inviato nell'Estonia che con preoccupazione presidia il confine con la Russia e chiede all'Unione Europea di fare di più. Andrea Marinelli, il 7 marzo scorso la Svezia è diventata il 32esimo paese dell'Alleanza Atlantica. Non faremo qui la storia della Nato, ma diamo un elemento. Era un'intesa militare che aggregava il blocco occidentale subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi durante la Guerra Fredda. In questi ultimi vent'anni si è allargata e nei nuovi scenari di guerra calda a Est, in mancanza anche di una difesa comune europea, la Nato ha preso una nuova importanza. Ora, in questo contesto la Svezia porta agli alleati delle particolari capacità che negli anni ha coltivato e che tu sei andato a osservare letteralmente sul campo. Siamo a Kungsangen, 30 minuti a nord di Stoccolma, nei boschi dove ha sede il Livgardet, che è la guardia del re, il battaglione del re che ha il compito di difendere la città di Stoccolma in caso di attacco nemico. Noi stiamo seguendo i soldati del re in questa esercitazione in cui stanno cercando di liberare un edificio in mezzo alla foresta, che dovrebbe ricordare una città svedese, e stanno cercando di liberarlo dal nemico, che è rappresentato dagli omini verdi, che non sono esplicitamente i russi, ma ricordano un po' gli omini verdi che combattevano in Crimea nel 2014. Il capitano Andrea Stambur è il comandante della Guardia del re e sta spiegando a me e al documentarista Pietro Masturzo che oggi la sua compagnia conduce un'esercitazione in un'area abitata. I buoni sono i blu, i nemici sono i verdi, che stanno attaccando un centro abitato che potrebbe essere quello di Stoccolma. Il nemico è morto, ci spiega Niklas Gustafsson, assistente del capitano Tambur, ma noi simuliamo l'eventualità che ci siano feriti, dobbiamo chiamare i medici. Abbiamo anche cinque prigionieri, che più tardi ci addestreremo a scambiare. Non è tanto la parte di combattimento che ci interessa, quanto quella logistica. Il battaglione è distanza nel centro di Stoccolma e il loro compito principale è di proteggere la città, in particolare il Parlamento, il Palazzo Reale, il quartier generale dell'esercito e le infrastrutture civili. Il loro ruolo, dice Gustafsson, comincia prima dell'inizio della guerra, in quella zona grigia in cui avvengono sabotaggi, attacchi terroristici, infiltrazioni. È un po' quello che è successo a Kiev nelle prime ore dell'invasione russa, spiega ancora l'addestratore. Hai presente il famoso video di Zelensky e i suoi nel centro di Kiev, la notte dell'attacco, mi domanda, quando dicevano che non se ne sarebbero andati e chiedevano armi per difendersi. Il loro compito è proprio questo, dice, garantire la sicurezza per poter inviare quel messaggio e permettere al Parlamento di continuare a operare. Stiamo aumentando le esercitazioni, continuamente. Sono sempre più intense. È la voce di Paula Levanen, portavoce del Livgardet, il battaglione del re. È lei che ci accompagna nei boschi di Kungsangen, che si assicura che indossiamo le cuffie e gli occhiali protettivi, che si preoccupa quando Pietro Masturzo scompare fra gli alberi insieme ai soldati per scattare foto. A volte la gente che vive qua attorno si lamenta e io provo a spiegare loro che, date le circostanze, la guerra e tutto il resto, ne faremo sempre di più, perché è quello che ci chiedono i politici, prepararci ed essere pronti per ogni circostanza. Abbiamo un permesso ambientale per sparare 310 giorni all'anno qui a Kungsangen. Non lo facciamo così spesso, ma le persone qua attorno si devono abituare. Ci addestrieremo sempre di più, non meno. La gente non è preparata per quello che sta accadendo nel mondo. La Svezia è entrata nella Nato, ma credo che a volte la gente che vive qua attorno al reggimento ancora non capisca che dobbiamo addestrarci ed essere pronti per quello che il futuro potrebbe prospettarci. Andrea, facciamo un passo indietro. Perché la Svezia è entrata nella Nato? Perché proprio adesso? Dal 1812 la Svezia è stata neutrale in tempo di guerra o militarmente non allineata in tempo di pace, anche se è stata sempre più vicina al blocco occidentale e agli Stati Uniti in particolare. Nell'ultimo secolo questa posizione ha oscillato fra un parziale collaborazionismo con la Germania nazista che ha permesso al paese di non dover combattere nella Seconda Guerra Mondiale e di non essere invaso e la responsabilità morale nei confronti del Terzo Mondo, rivendicata negli anni 70-80 dal premier socialdemocratico Olof Palme, ucciso misteriosamente a Stoccolma nel 1986. Ma negli ultimi anni la percezione dell'opinione pubblica e di conseguenza la posizione della politica è molto cambiata. È una considerazione che ha fatto anche l'ambasciatore italiano a Stoccolma Michele Pala. Buongiorno, sono Andrea Marinelli per l'ambasciatore. Andrea Marinelli, un attimo se chiamo il collega, rivolgo il collega. Sì, grazie. La percezione per me è stata netta da questo punto di vista, anche perché bisogna tenere conto che questo è un paese che veniva da 200 anni di neutralità. Quindi il cambio, loro erano molto gelosi e molto fieri di questa loro posizione precedente. Quindi sicuramente è un cambio che è costato nella percezione anche della popolazione, non solamente della classe dirigente. Una classe dirigente è una classe politica che, come sapete, largamente ha sostenuto la Nato. Non l'ingresso nella Nato, avviata da un governo di centro-sinistra e portata avanti dall'attuale governo, che è invece di un orientamento politico diverso. E su questo c'è stata una grandissima unitarietà. È una questione che ho approfondito anche con il politologo Björn Fagersten. C'è stato un forte sostegno per l'ingresso nella Nato. Fagersten crede però che ci sia una differenza rispetto alla Finlandia, che ha fatto domanda di ingresso nell'alleanza insieme alla Svezia. Mentre la politica estera finlandese era condizionata dalla vicinanza con la Russia, la neutralità e il non allineamento militare svedesi facevano parte dell'idea che la Svezia aveva di se stessa in politica estera, in particolare fra i partiti della sinistra. Lo spiega bene il giornalista Ivar Ekmar, che ha lavorato per giornali svedesi e americani. Sono analista con il Swedish Defence Research Institute, che in italiano dovrebbe essere l'Istituto di ricerca difensale, l'Istituto di ricerca per la difesa svedese. Ekmar spiega che il non allineamento ha rappresentato una vera e propria identità per la Svezia e gli svedesi, finché, dopo l'invasione dell'Ucraina, il governo di Stoccolma non ha deciso di interrompere oltre 200 anni di neutralità e fare domanda di ammissione alla Nato. L'invasione è stata a febbraio, a settembre si votava. Il Partito Social Democratico era quello che storicamente sosteneva la politica di non allineamento, ma temeva che se non avesse appoggiato l'ingresso nella Nato, che i conservatori avevano sempre voluto, sarebbe stato dannoso alle urne, quindi decisero all'improvviso di cambiare politica. La Svezia è vicina alla Nato da tempo. Ha avuto una cooperazione molto stretta e la politica di difesa svedese si basava anche sulla possibilità di ottenere sostegno dagli Stati Uniti e dagli alleati. L'invasione russa ha ricordato però agli svedesi che essere vicini non era abbastanza, che dovevamo diventare membri ufficiali. Tanto più che l'esercito già rispettava gli standard dell'alleanza. La Svezia è un paese piccolo, continua ECMAR, di 10 milioni di persone. La neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale e il successivo non allineamento con la Nato hanno portato alla creazione di una grande industria della difesa negli anni 50 e 60. È stata una decisione del governo ed è per questo che da 75 anni costruiscono i propri caccia. È qualcosa che in genere è riservato ai grandi paesi. In Europa solo la Francia lo fa. Sono progetti enormi che allo Stato costano enormi quantità di denaro. A un certo punto è diventato chiaro che non era più sostenibile. Le fabbriche però non si potevano chiudere, licenziando le persone. Quindi l'industria svedese degli armamenti ha dovuto internazionalizzarsi. Stiamo cominciando a capire che l'ingresso della Svezia nella Nato è una svolta a Stoccolma, ma risulta anche vantaggioso per gli alleati. Perché la Svezia in questi anni, lontana dai conflitti e dalle intese militari, ha fatto da sé. Ha aumentato la sua capacità di difesa, investendo oltre che nell'addestramento nell'industria bellica. La Svezia, come mi hanno spiegato tutte le persone che ho incontrato, doveva essere in grado di difendersi da sola. Non poteva contare su nessun aiuto, non essendo parte di un'alleanza. E così, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha cominciato a sviluppare una imponente industria bellica privata che ha lavorato a stretto contatto con il governo e, come abbiamo sentito, produce persino caccia e sottomarini. La principale azienda del paese è la Saab, che, a differenza di quanto tutti pensano, ha prodotto auto solo per un periodo. Il nome, infatti, è l'acronimo di Compagnia Aeronautica Svedese. A Stoccolma sono stato nella nuova sede che hanno inaugurato di recente in centro. Mi hanno raccontato che non c'è mai stato così tanto interesse per quello che fanno e che gli affari, ovviamente, negli ultimi due anni sono alle stelle. Qui ho incontrato l'amministratore delegato Mikael Johansson. In principio, il 70-80% degli introiti della nostra azienda venivano dalla difesa svedese. Poi, quando il governo disse che non poteva più sostenere una gamma di prodotti così pasta, ci siamo buttati sul mercato internazionale. Ora il 60-70% dei nostri affari è fuori dalla Svezia e questo ci ha portato ad avere un altro tipo di rapporto con il governo. Tuttavia, manteniamo un dialogo molto stretto per quanto riguarda le forze di difesa e le autorità che si occupano di acquisizioni per capire cosa serve dal punto di vista strategico. Che cosa è cambiato, gli chiedo, con l'ingresso nella Nato? Far parte della Nato è ovviamente un grande passo per il paese. Dal punto di vista del settore, i nostri prodotti e sistemi erano già compatibili con l'alleanza. Forniamo equipaggiamenti a molti paesi nato da tempo. Ovviamente, se non fai parte dell'alleanza e vuoi essere coinvolto in cose più sofisticate, magari più delicate, è difficile. Non sei abbastanza fidato. Quindi direi che è davvero importante esserci entrati a pieno titolo. Ora possiamo avere più accesso all'autorità di acquisizione, ma forse anche essere maggiormente coinvolti nello sviluppo. La cosa più importante è la prospettiva della sicurezza. È sufficiente quello che l'Unione Europea sta facendo per sostenere la difesa? Mi piacciono gli incentivi che l'Unione Europea sta promuovendo, ma dobbiamo renderci conto che non siamo gli Stati Uniti d'Europa. Non abbiamo un livello federale. Quindi dobbiamo incentivare i modi di collaborare per rendere l'Europa più forte. Penso che dobbiamo prenderci una maggiore responsabilità. Dobbiamo renderci conto che abbiamo questo vicino aggressivo a Est, di cui non ci si può fidare. Dobbiamo lavorare di più insieme. Sulla strategia di difesa comune, di cui si sente tanto parlare in questi tempi, Johansson ha un'idea molto netta. Sarebbe un doppione rispetto alla Nato. Non penso che l'Unione Europea dovrebbe avere un proprio processo e una propria strategia di difesa, o che debba creare una forza di difesa comunque di qualche tipo. Abbiamo la Nato. Ed esiste un'enorme sovrapposizione tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati membri della Nato. Andrea, dunque stiamo comprendendo che tra l'angoscia della guerra a Est e le nuove possibilità anche commerciali che ha aperto l'adesione alla Nato, l'industria militare svedese è in un momento di piena attività. Assolutamente. Una conferma la ho avuta alla conferenza che organizza a Stoccolma l'Associazione delle Aziende della Difesa e della Sicurezza Svedesi. Una sala piena di dirigenti d'azienda e militari che cercano di capire insieme cosa serve all'esercito e dunque in che direzione deve andare la produzione. Mi chiamo Robert Limogard e sono il segretario generale di questa sorta di confindustria della difesa. Ai miei membri non piace quando paragono la nostra industria della difesa all'IKEA, dice Limogard. Eppure è sempre stata molto simile. È funzionale, ha un grande valore per la difesa, è semplice da utilizzare, da assemblare, è facile addestrare i coscritti. Generalmente le forze armate non rendono pubblico ciò di cui hanno bisogno. Non lo mettono sul proprio sito, spiega Limogard. Questo è un business che si basa sulla fiducia. Allora la sua organizzazione ha creato una piattaforma per far dialogare il governo con le aziende, che qua in Svezia sono tutte private e non possono contare sui fondi pubblici per ricerca e sviluppo. Così possono capire di cosa bisogna l'esercito e investirci. La conferenza di oggi serve a capire le necessità dei prossimi 2-5 anni, che grosso modo è domani, dice Limogard, ma anche capire cosa servirà alle forze armate nel lungo periodo, nel 2035 o nel 2040. Sicuramente alle forze armate svedesi servono donne e uomini. Durante la Guerra Fredda, la Svezia aveva un esercito robusto. Essendo non allineata, era considerato fondamentale per mantenere la propria indipendenza in caso di attacco nemico e poteva mobilitare fino a 850.000 persone, che in un paese che oggi ha 10 milioni di abitanti è tantissimo. Poi, nel 2010, ha sospeso la leva obbligatoria, come abbiamo fatto in Italia e in altri paesi. Il servizio militare su base volontaria, però, non bastava. Si sono ritrovati con meno di 20.000 soldati. Dopo l'occupazione russa della Crimea nel 2014, a Stoccolma si è cominciato a parlare di riattivare la leva obbligatoria. Un importante generale disse che la Svezia sarebbe stata in grado di difendersi soltanto per una settimana e soltanto una parte del paese. E così, nel 2018, hanno provato con un sistema selettivo. Eric è un giovane soldato reclutatore che abbiamo incontrato nel bosco fuori Stoccolma durante l'esercitazione. Si è arruolato finita la scuola due anni fa e dopo aver completato l'addestramento, a sua volta va oggi nelle scuole per reclutare nuove eleve. Qualcuno si arruola perché è una carriera che gli piace, perché vuole contribuire alla difesa. Altri perché vogliono fare un'esperienza. Ma qui ci occupiamo di cose serie. Dunque, come funziona adesso in Svezia il servizio di leva? Ogni anno, centomila diciottenni ricevono la chiamata. In questa prima selezione ne restano fuori pochissimi. Quest'anno tocca ai ragazzi nati nel 2006 e sono rimasti fuori in diecimila. Dall'arrivo di questa cartolina fanno tutti delle prove, un po' come erano i nostri tre giorni prima dell'abolizione della leva obbligatoria. e alla fine ne scelgono il 5%, che però è obbligato al servizio militare, un numero che vorrebbero raddoppiare entro il 2030. È un modello che stanno studiando anche altri paesi alle prese con lo stesso problema, la carenza di militari. Paolo Salom, tu l'hai fatto al servizio militare? Sì, ho fatto il militare. Ero un ragazzino di 18 anni, appena uscito dal liceo. È stata la mia prima esperienza nel mondo degli adulti e delle responsabilità. 12 mesi tra addestramento e ruolo operativo, prima a Torino e poi a Milano. Dico la verità, sono contento di averlo fatto, anche se mi rendo conto che il mondo di oggi è davvero un altro rispetto a 40 e più anni fa. Una differenza tra tutte. Allora l'idea di partecipare a una guerra era fuori da ogni considerazione. Virtualmente una cosa impossibile. Adesso invece il dibattito in Europa si è riaperto. In Italia la leva non è più obbligatoria dal 2005. L'attuale ministro della difesa, Guido Crosetto, si è detto apertamente contrario. Servono professionisti, ha detto. Non è l'esercito il luogo per educare i giovani. Sto ripetendo le sue parole. Eppure esiste un disegno di legge della Lega, partito che fa parte del governo, appena presentato alla Camera, che chiede la reintroduzione di sei mesi obbligatori di leva per ragazze e ragazzi. Qual è la situazione negli altri 26 paesi dell'Unione? La leva obbligatoria, esattamente come è accaduto in Italia, è stata abbandonata dalla maggior parte dei paesi europei, ma resta, in varie forme, in vigore nei paesi baltici, Grecia, Cipro, Austria, Finlandia, Svezia e anche in Danimarca. Tra i paesi baltici c'è l'Estonia, dove tu ci stai portando e dove si capisce molto bene che la guerra, contrariamente all'epoca in cui tu hai fatto il militare, è percepita adesso come una possibilità. L'Estonia è una piccola nazione al confine dell'Europa. Un confine remoto, freddo, spopolato, stretto tra la Grande Russia e il Mar Baltico. Gli Estoni sono soltanto un milione e trecentomila. Se il confronto tra Mosca e l'Occidente tracimasse, il loro paese sarebbe probabilmente il primo a diventare un campo di battaglia. In ogni caso, è indubbio che diventerebbe in poche ore la linea più avanzata del fronte. Io e il documentarista Francesco Merlini l'abbiamo capito qui a Tallinn, la capitale, una città davvero bella, gioiello di cupole ortodosse e campanili proiettati su un azzurro diafano. Tallinn appare serena, nonostante oltre due anni di tensioni e allarmi, perché l'Ucraina è molto, molto vicina in termini relativi. Mille chilometri di pianura e si arriva a Kiev. Gli ha percorsi il deputato Cristo Vaga, appena rientrato da una missione che lo ha portato a raggiungere in bicicletta Kiev per portare solidarietà e aiuti. L'ho incontrato nel suo ufficio al Parlamento e gli ho chiesto perché lo ha fatto, visti e considerati fatica e rischi. È il momento di immaginare cose fuori dall'ordinario in Europa, in particolare in quei paesi che hanno la Russia come vicino. Occorre tenere alta l'attenzione in Estonia sugli aiuti all'Ucraina, continua il giovane deputato, perché in Estonia capiamo che questa è una questione esistenziale anche per noi. Vaga è stato un ciclista semiprofessionista, era quella la sua vita precedente. Ora fa il politico e mi dice che sta cercando di mettere insieme le due esperienze. Il punto della sua pedalata verso Kiev era anche mostrare all'Europa tutta che la guerra si svolge a una distanza che si può coprire in bicicletta. E conclude, ora noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitare che la guerra arrivi alla distanza di una camminata. Questo è il punto. È anche in virtù di questa vicinanza al conflitto in corso che si spiega l'intenzione di Tallinn di conservare il suo modello di leva, continuare una forma di addestramento. Come funziona? In Estonia tutti i ragazzi sono tenuti a fare sei mesi sotto le armi, otto se si desidera specializzarsi o diventare ufficiali, mentre le ragazze possono arruolarsi, ma da volontaria. Ma il paese intero è chiamato in un modo o nell'altro a partecipare alla sua difesa. Me l'ha spiegato il maggiore Nehme Bruce, portavoce della Lega per la Difesa dell'Estonia, l'istituzione che organizza i soldati della riserva e i civili coinvolti nella difesa territoriale. Tutti volontari che si esercitano nel weekend e lo fanno gratuitamente. Nehme Bruce mi dice che in ogni villaggio, in ogni città, la Lega per la Difesa ha la sua gente, le sue unità, cosa che risulta essenziale, dice ancora, per la capacità di reazione e la logistica in un eventuale conflitto. I nostri uomini e donne hanno la facoltà di tenere armi automatiche in casa, spiega il maggiore. Ovvio che devono aver superato un addestramento prima di ottenere l'arma, devono superare un esame e avere un posto sicuro dove sistemarla insieme alle munizioni. Perché è importante che tanti civili siano armati, gli chiedo. Se accade qualcosa, mi risponde, se qualcuno entra nel paese, lo invade, insomma, o comunque ci attacca, i primi obiettivi dei loro razzi, delle loro bombe, saranno le installazioni militari, depositi, caserme. Ma se i cittadini hanno le armi personali custodite in casa, sarà molto veloce mobilitarli, raggrupparli in unità e cominciare a combattere. Dunque, l'Estonia, in casi estremi, punta anche sulla reazione di civili in armi. Sì, affiancati ovviamente ai 7.000, tra soldati di carriera e coscritti, che vestono una divisa. È chiaro però che l'Estonia, per quanto coraggiosa e organizzata, non può arginare l'armata di Mosca a lungo. È un'armata, quella russa, che tra l'altro gli Estoni conoscono da vicino, per esperienza diretta. Sì, l'Estonia è stata per secoli dominio di altre potenze. Prima la Svezia, poi la Russia degli Zari. Al termine della Prima Guerra Mondiale, gli Estoni si sono trovati nelle condizioni di sollevarsi per la propria libertà. Dal 1918 al 1920 hanno combattuto e sconfitto la nascente armata sovietica che voleva riportare la piccola repubblica sotto il proprio dominio. E hanno guadagnato l'indipendenza anche grazie all'aiuto di volontari arrivati dalla Scandinavia e all'alleanza con i russi bianchi. 20 anni di libertà e la minaccia si è ripresentata. Nel 1940 gli Estoni sono stati costretti ad arrendersi senza combattere di fronte ai carri armati di Stalin. Avevano capito che sarebbe stata una strage inutile e così sono diventati il loro malgrado parte dell'Unione Sovietica. E di fronte ai potetici carri armati di Putin che cosa immaginano di fare gli Estoni? Il ministro della difesa Hanno Pevkur è fiducioso che in caso di attacco gli Estoni saranno in grado di fermare i nemici alla frontiera. Parole sue. Perché mi spiega conoscono benissimo quel terreno fatto di acquitrini e foreste certamente meglio dei russi. Ci incontriamo al Ministero della difesa un anonimo palazzo in stile sovietico appunto ai margini della città vecchia cui si accede da una porticciola dopo aver semplicemente suonato il campanello. Il ministro assicura che il dibattito europeo sulla necessità di creare un esercito parallelo a quello della Nato è in realtà mal posto. L'Europa deve certamente fare di più ma aspetta la Nato occuparsi della difesa comune. L'esercito comune europeo c'è già è quello della Nato. Ogni membro dell'Alleanza è parte di questo sistema e questo significa che siamo già parte di una collettività. Abbiamo messo insieme le nostre forze per proteggere e difendere le nostre nazioni e i nostri cittadini. Dunque io ritengo che l'Unione Europea dovrebbe focalizzarsi sull'incremento delle capacità difensive di ciascuno come avviene per esempio quando parliamo del progetto di difesa aerea Sky Shield condotto dai tedeschi oppure quando si sollecita un aumento dei fondi per la difesa dei cieli o per la produzione di munizioni. Tutto questo va benissimo. Va bene insomma che l'Unione Europea aiuti ciascuno Stato a far meglio la sua parte senza prendere il posto della Nato. È così, ministro? Quando parliamo dell'Unione Europea sappiamo che l'Unione è per lo più concentrata su questioni extra difesa ma questo non significa che non possiamo fare di più anche in questo campo. Certo che possiamo ed è il motivo per il quale l'Estonia ha promosso l'iniziativa per fornire un milione di proiettili d'artiglieria per Kiev. Per questo abbiamo sostenuto i bond per la difesa. Noi vediamo l'Unione come un'istituzione che può incrementare le capacità dei singoli stati perché abbiamo una politica agricola comune una politica delle infrastrutture e altre ancora ma uno dei settori sui quali è poco attiva è proprio la difesa ma anche qui c'è spazio per intervenire e fare di più è questo per me il grande ruolo dell'Europa ma se affrontiamo la questione delle manovre militari quando parliamo di approccio alla difesa ecco questi aspetti dovrebbero restare di competenza della Nato Nato e Unione Europea non possono diventare rivali in questo settore quindi ministro siete pronti per ogni scenario certo che siamo pronti eravamo pronti nel 1918 e siamo pronti oggi siamo pronti a difendere i nostri cittadini il nostro paese non ci sono dubbi su questo se mettiamo a paragone la situazione attuale a 106 anni fa vediamo che sono del tutto differenti allora quando abbiamo iniziato la nostra guerra di indipendenza avevamo meno di 2000 soldati e non tutti avevano un fucile oggi l'esercito Estone è più forte che mai le nostre capacità sono buone i nostri depositi sono ben forniti di munizioni e continuiamo ad acquistarne ma la cosa più importante per la nostra difesa è il fatto che siamo parte della Nato questo l'avevamo ben chiaro in mente negli anni 90 subito dopo aver ritrovato la sovranità c'era ben chiaro che non saremmo mai più dovuti rimanere da soli ecco perché l'Estonia ha voluto essere parte dell'Unione Europea parte dell'Occidente dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo e della Nato questa era la nostra strada il nostro destino il nostro obiettivo che abbiamo raggiunto grazie me lo lasci dire alla nostra determinazione ecco perché ora le nostre forze armate sono pronte a difendere la nostra patria è pronto a difendere il nostro paese dunque l'Estonia piccola e remota sottolinea l'importanza di aver scelto il fronte occidentale a partire dall'adesione all'Unione Europea l'appartenenza all'Europa nel senso più ampio del termine non solo l'Unione di Bruxelles è per gli Estoni compresa la minoranza russa un traguardo che ha cambiato i destini della nazione l'Estonia vuole essere europea anche e soprattutto per il trauma dell'occupazione sovietica cui è seguito un lungo processo di guarigione d'altro canto i segni di questa occupazione ci sono ancora siamo stati per esempio nella città vecchia di Tallinn all'interno di quella che per decenni fino ai primi anni 90 è stata la prigione del KGB e ora è un museo aperto al pubblico Rheinseppel ci accoglie nel piccolo antro di un palazzo anche questo di stile sovietico di fatto siamo in quelle che erano le cantine trasformate in celle minuscole dove i prigionieri erano tenuti in condizioni disumane sei per cella le brande di legno sostenute da sbarre d'acciaio inchiodate alle pareti un orrinatoio e nulla più per i bisogni fisici qui dietro una pesante porta di legno avvenivano gli interrogatori un tavolino a dividere l'ufficiale del KGB e il prigioniero che in determinati casi poteva essere legato a una sedia in legno e torturato per ore non è un caso che Ryan non ne voglia sapere di tornare sotto il controllo di Mosca la storia si può ripetere mi dice e io ho studiato a fondo la storia allo stesso tempo osservando quello che ha fatto la Russia negli ultimi cento anni quello che ho capito è che alcuni paesi non cambiano restano fedeli a se stessi nel caso della Russia nell'ultimo secolo non c'è stata alcuna evoluzione sono sempre rimasti gli stessi quelle che sentiamo in sottofondo in russo sono testimonianze registrate e trasmesse al museo del KGB ad ascoltarle si può immaginare quale potrebbe essere il futuro arresti condanne deportazioni nessuno lo vuole e anzi le testimonianze fisiche e verbali di questa sofferenza sono ancora presenti anche se il paese prova ad andare avanti tanto più oggi come afferma Karen Jagodin direttrice di un altro museo quello dell'occupazione e si chiama VABAMU come nazione ci spiega parte della guarigione dai traumi dell'occupazione sovietica e della seconda guerra mondiale è avvenuta parlandone riportando le ferite alla luce ora 10-15 anni più tardi è sempre meno un problema attuale e comunque c'è stata una vera e propria un data di ottimismo nella società che è andata di pari passo con l'adesione dell'Estonia all'Unione Europea e alla Nato tutto in quel momento è sembrato luminoso e beneaugurante ed è esattamente con un sorriso luminoso che ci risponde Greta Maria a 20 anni studentessa di psicologia all'Università di Tallinn ora vestita come una sua antenata del Medioevo intenta servire i tavoli di una osteria nel centro antico di Tallinn l'Europa per me è casa è stato così più o meno tutta la mia vita sono cresciuta in un'Estonia europea mi sento molto più sicura per questo sono davvero felice che l'Estonia sia nell'Unione Europea è così facile viaggiare essere liberi e spero davvero tanto che possa rimanere sempre così questo è tutto quello che posso dire in questo momento è il progetto minacciato dalla guerra alle porte l'Europa come l'immagina Greta e come l'avevano disegnata i suoi ideatori una casa sicura capace di proteggere di garantire una vita libera e in pace una casa comune che soprattutto oggi sembra aver bisogno a sua volta di essere difesa questa è l'Europa è un podcast della redazione esteri del Corriere della Sera nella decima puntata scritto da Alessandra Coppola con Andrea Marinelli e Paolo Salom direzione artistica Samuele Pellecchia producer Francesco Merlini mix sound design e musiche originali Federico Chiari coordinamento Francesco Giusti audio impresa diretta Pietro Masturzo e Francesco Merlini grazie ai colleghi che ci hanno prestato la voce Paolo Foschini Massimo Rebotti Chiara Severnini e Irene Soave un ringraziamento speciale a Barbara Stefanelli il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea il Parlamento Europeo non ha partecipato alla sua preparazione e non è in alcun modo responsabile delle informazioni e dei punti di vista espressi nel quadro del progetto del progetto del progetto dell'Unione Europea